Nel rione Caffaro o Caffaro di Lauria viveva una modesta famiglia composta da Macario Lentini, Rosalia Vitarelli e quattro figli la più grande Domenica, Rosa, poi Nicola e Antonia e il 20 novembre del 1770 nacque il quinto figlio chiamato Domenico e nello stesso giorno fu portato qui nella chiesa di San Nicola e ricevette il battesimo da questa fonte battesimale che è del 1500 e così inizia la vita di questo uomo così importante per quanto riguarda la storia di Lauria ma soprattutto per quanto riguarda la storia stessa della chiesa Noi non sappiamo con esattezza delle date perché gli archivi parrocchiali furono bruciati come diremo più tardi nel 1806 però queste notizie del battesimo e della nascita le abbiamo raccolte da parte di un sacerdote un certo Don Melis che aveva in casa sua fatto l'anagrefe un po' delle famiglie della parrocchia e quindi conservava l'elenco di tutte le parrocchie e con esattezza noi sappiamo ecco il giorno preciso della nascita del nostro beato Lintini ebbene questo ragazzo comincia a vivere nella trepidazione della mamma perché? perché avevano avuto questa coppia anche altri figli ma che erano morti prematuramente e allora si moriva prestissimo ecco perché lei, devota della Madonna Assunta, lo portava spesso dalla Madonna Assunta e chiedeva alla Madonna questa grazia di farlo crescere santo e vecchiarello non che doveva campare chissà quanti anni ma di non farlo morire subito come gli altri figli e di fatti fu esaudita perché è diventato beato e nello stesso tempo è vissuto 5-8 anni che per il tempo all'inizio dell'Ottocento quindi fino al 1700, all'inizio dell'Ottocento era una bella età però accadde subito che questo bambino già da piccolo incominciò ad sperimentare la sofferenza nella sua vita perché? aveva 4-5 anni si ammala gravemente il papà e la mamma come al solito ricorre all'aiuto della Madonna Assunta e le chiede un'altra grazia far morire me a posto del papà perché queste bocche hanno più bisogno del padre che della madre per essere sfamati per essere sfamate e così dopo un po' di tempo il padre guarì la madre si ammalò gravemente e morì e lui restò orfano di mamma ben presto per cui incominciò a curarlo la sua sorella un po' più grandicella di qualche anno la sorella Antonia lo prese in cura e fece anche da mamma lui trascorre la fanciullezza in questo rione del Cafaro e tra le rive del fiume perché allora era un fiume scoperto che serpeggiava tra le rocce di questa zona e si divertiva come tutti i bambini del tempo ad andare dietro le uccelline, le lucertole e quindi faceva i cappi per prendere le lucertole oppure con la fionda colpire gli uccellini e tante volte sbagliava mira e una volta si racconta che colpì un vetro di una finestra per cui i ragazzi immediatamente fuggirono lui da adulto, da sacerdote si ricordò di questo fatto e andò poi dal proprietario di quella casa e raccontò che aveva rotto un vetro e quindi pagò però il proprietario non volle i soldi e ammirò moltissimo questo gesto di onestà compiuto dal ragazzo e quindi dal giovane prete Don Domenico Lentini della sua fanciullezza noi non sappiamo più nulla se non che fece ancora in giovane età quindi nell'età di 6-7 anni la prima comunione è la cresima nella parrocchia di San Giacomo Lauria Inveriore per le mani di Monsignor De Rosa poi ha incominciato a vivere la sua esistenza più in questa chiesa che a casa sua ed egli quando la chiesa era aperta veniva qui per fare catechismo e per servire la messa ai vari sacerdoti che celebravano in questa chiesa ricordo che al tempo del Lentini c'erano in laurea superiore circa 50 sacerdoti per cui molti sacerdoti celebravano ognuno aveva il suo altare qui in questa chiesa maestosa che è la chiesa madre alcipretale di Lauria in questo periodo i sacerdoti il parroco in modo particolare e un canonico si rendono conto della spiritualità di questo ragazzo dell'intelligenza della bontà e lo incominciano a istruire anche perché il papà voleva che fosse istruito e non c'erano le scuole pubbliche in quel tempo soltanto i preti facevano un po' di scuola nelle loro case e il canonico Scaldaferri molto erudito nelle lettere lo incominciò lo avviò nella istruzione più elementare e dopo di lui anche l'arciprete Cosentino che era il parroco di San Nicola continuò questa preparazione con alcune materie filosofiche poi all'età di 15 anni il nostro Domenico espressi il desiderio di volersi fare sacerdote e quindi indossò l'abito clericale per dire che da quel momento lui aveva intrapreso la via sacerdotale e restò qui a Lauria continuando gli studi approfondendo gli studi con questi sacerdoti dotti e all'età di 18 anni volle entrare in seminario per diventare sacerdote il papà fu molto contento di questo lo aiutò si prestò i soldi per farlo studiare ci teneva che diventasse sacerdote e così a 18 anni andò nel seminario di Policastro la diocesi di Policastro è una diocesi antichissima nei primi secoli della storia della Chiesa noi sappiamo che già era fondata era stata fondata questa diocesi poi con l'avvento dei saraceni sulle coste mediterranee e quindi questa diocesi andò distrutta scomparve però la sua storia non scomparve ecco perché il vescovo l'arcivesco di Salerno Alfano I volle con una bolla del 1779 volle rifare la diocesi di Policastro e mandò come primo vescovo un suo nipote San Pietro Pappacarbone che incominciò a ricostire questa diocesi e Lauria fu inserita nella diocesi di Policastro che allora comprendeva alcuni paesi del basso salernitano della Lucania meridionale arrivava fino alla Tronico e dell'Alta Calabria questa diocesi di Policastro è durata in questo modo fino al 1800 poi in questo periodo dal 1700 a 1800 eccetera c'è stata una suddivisione diversa per cui alcuni paesi della Calabria passarono alla diocesi di Cassano altri di Policastro finirono nella diocesi di Vallo della Lucania altri nella diocesi di Teggiano per cui si rimpicciolì la diocesi di Policastro nel 1976 ci fu l'ultimo cambiamento diocesano per cui si fece coincidere la diocesi con la regione e allora l'Auria che apparteneva alla Lucania passò nella diocesi di allora si chiamava Anglone Tursi poi dal 1976 fu chiamata Diocesi di Tursi Lago Negro avendo queste due sedi vescovile tutti i paesi della Lucania lasciarono Policastro e passarono nella nuova diocesi di Tursi Lago Negro per cui Latronico Lago Negro Lauria Nemoli Rivello Trecchina e Malatea che erano prima dell'antica diocesi di Policastro passarono nella diocesi di Tursi Lago Negro ecco lui rimase a Policastro nel seminario di Policastro fino al 1791 anzi fino al 1793 e in questa diocesi in questo seminario lui compritò gli studi poi doveva essere ordinato diacono nel frattempo ci fu quasi una richiesta nello stesso tempo di alcuni gentiluomini di Lauria che vollero i Lentini chiesero proprio fecero una petizione al vescovo di farlo venire qui a Lauria perché diventasse il precettore dei loro figli i Lentini non fu ordinato a Policastro diacono perché nel frattempo la sede era vacante allora andò nella vicina diocese di Cassano precisamente nel paese di Mormanno dove il 21 settembre del 1793 venne ordinato diacono da Monsignor Coppola la richiesta divenne più insistente da parte dei gentiluomini di Lauria e il vescovo diede un permesso particolare per cui lui fu ordinato sacerdote qualche mese prima dell'età canonica e precisamente fu ordinato sacerdote l'8 giugno giorno di Pentecoste e venne ordinato sacerdote sempre perché la sede ancora era vacante a Marsico Nuovo di questa ordinazione sacerdotale noi abbiamo pochissime notizie sappiamo che lui fu dal parroco di Lauria raccomandato a una famiglia di Moliterno perché lo potessero ospitare lungo il viaggio che egli doveva affrontare abbastanza lungo e lui fu ospitato a Moliterno da questa famiglia che abitava al lato della chiesa madre di Moliterno e la sorpresa di questa famiglia quale fu che la mattina seguente quando andarono per sistemare la stanzetta che l'aveva ospitato trovarono il letto intatto non era stato proprio toccato allora capirono che lui o aveva dormito per terra o tutta la notte aveva pregato questo sappiamo di come egli si è preparato a diventare sacerdote prima di partire da Moliterno questa famiglia lo invitò di nuovo dopo l'ordinazione a ritornare lì per l'ospitalità della notte successiva ma lui sappiamo dopo l'ordinazione a Marsico Nuovo non si fermò più a Moliterno perché è come se avesse trovato troppo agio troppa comodità quindi si rifugiò in un casolare sulla via del ritorno tra Moliterno e Cogliandrino e in questo casolare gli fu dato un pagliericcio fatto di grano turco e lui non volle coricarsi lo cedette al suo fattorino ecco i primi due giorni della vita sacerdotale dell'Entini ci dicono già quello che egli doveva essere un uomo di preghiera e di penitenza arrivò a Lauria e ci spostiamo un momentino verso il centro della chiesa di Lauria di San Nicola abbiamo un po' tratteggiato i primi anni della storia del nostro Lentini nel frattempo c'è anche una storia più grande che è la storia dell'Italia e la storia dell'Europa noi sappiamo che nel 1789 ci fu la rivoluzione francese e qualche anno dopo incominciano le rivolte nei vari stati soprattutto contro la monarchia contro la nobiltà contro il clero e quindi cominciano a nascere le varie costituzioni ecco di questo periodo noi abbiamo un episodio che viene raccontato da vari biografi del Lentini ed è quello del famoso albero della libertà questi rivoluzionari o questi amanti della della Costituzione in ogni paese cercavano di mettere di piantare un albero che veniva chiamato l'albero della libertà per dire che oramai si erano ribellati e si erano rivoltati a questi poteri forti del passato e questo albero che era conviccato nel terreno aveva sulla cima un cappello friggio che erano un po' i berretti che usavano i greci e qualche fiore ebbene dopo qualche anno che era stato piantato questo albero incominciano anche la ribellione incominciano le lotte tra le famiglie eccetera e qui noi sappiamo che mentre stavano scoppiando vari letigi che potevano anche andare a finire nel sangue il Lentini intervenne avvicinandosi dove erano queste persone vicino all'albero della libertà che sorgeva in una chiesetta che si chiamava la chiesa di San Vito che adesso non esiste più però si trovava un po' più o meno lo dico soprattutto per quelli di Lauria dove sorge attualmente dove sorgeva la comunità montana su quel cucuzzo lì e lì era piantato questo albero in modo che era visibile un po' da tutta Lauria e Lentini convinse tutte queste famiglie a ritornare ad essere in pace a non litigare e fece loro capire con delle parole buone lui poi era molto stimato e quindi veniva apprezzato anche dai paesani fece capire che non era quello il vero albero della libertà ma il vero albero della libertà era la cruce perché per la cruce noi siamo stati salvati e quindi siamo diventati grazie alla cruce figli di Gesù Cristo figli di Dio e quindi uomini liberi e come segno fece togliere quell'albero della libertà e fece mettere una cruce quando poi è stata distrutta la chiasetta di San Vito per allargare la strada questa cruce è rimasta quasi come segno di questo momento ai piedi della villa comunale e si può ancora oggi ammirare questa cruce è il primo intervento che il Lentini ha fatto per quanto riguarda un po' la storia civile di Lauria poi è capitato nel 1806 un altro episodio spiacevole per Lauria che viene chiamato il sacco di Lauria in effetti le truppe napoleoniche stavano scendendo dalla Francia e quindi avevano occupato tutto lo stato pontificio e il regno di Napoli che cosa era successo che il re di Napoli Ferdinando si imbarcò su una nave e fuggì a Palermo in questo periodo però alcune navi inglesi sbarcarono in Calabria cercando di aizzare la popolazione calabra contro i francesi e allora i francesi furono quasi costretti a scendere giù verso la Calabria per bloccare un po' i rivoltosi senza perderci adesso nei particolari quando arrivarono qui a Lauria il generale Massena si fermò in quella zona dove fino a poco tempo fa c'era anche questa quercia chiamata la quercia del Massena da dove si può vedere tutto Lauria e vedendo l'insistenza della ribellione tenendo conto che a lui aveva mandato dei soldati per chiedere un incontro per apercificarsi eccetera vedendo che questi soldati erano stati maltrattati eccetera lui decise di occupare la Lauria per cui mandò un trappello di soldati per la strada di sopra verso oriente la strada che congiunge il Lago Negro a Rotonda e lui invece scese dall'attuale strada della Seta in modo che quando le forze si ricongiunsero fu facile diciamo accerchiare i lauriotti e anche diciamo distruggere più di 400 abitazioni incendiare le abitazioni e compiere ogni tante misfatti dentro le case pensate un po' le donne che venivano violentate che venivano uccise gli ammalati che venivano trucidati nei letti perché non si potevano muovere e si racconta anche di un episodio di una mamma che aveva in braccio un bambino un bambino appena nato di 5 o 6 mesi che fu infilzato da una baionetta dei fucile dei francesi e gettato per terra il giorno dopo lo andarono a trovare questo bambino lo trovano ancora vivo andarono a trovare i lauriotti lo curarono lo salvarono e poi questo bambino è diventato prete donna Luigi Alaggia nato nel 1805 e morto nel 1890 e non si parla dell'Entini in questo episodio però si racconta soltanto che alcuni sacerdoti si rifugiarono nell'episcopio nell'episcopio in quel tempo c'era il vescovo Ludovico Ludovici il quale era ben visto dai francesi lui decise di fare una processione per andare incontro a Massina certamente in questa processione parteciparono quei sacerdoti che erano presenti nell'episcopio tant'è vero che il vescovo lo riconobbe da lontano e bloccò l'ecidio perché lo riconobbe da lontano perché qualche anno prima ci fu un'altra rivolta e lui fu aiutato da Ludovico Ludovici e nascosto nell'episodio dove fu salvato insieme ad altri soldati fu quasi un atto di ringraziamento nei confronti del prelato questo è l'episodio che si ricorda di questo sacco di lentini però si ricorda anche che questa chiesa è stata completamente incendiata nel 1806 e solo due anni dopo nel 1808 fu diciamo un po' ricostruita e li cominciarono a celebrarci certamente in questi due anni anche i lentini con gli archipreti e con le persone del paese hanno dato il loro contributo per risistemare la chiesa dico risistemare perché questa chiesa ha vissuto momenti terribili in questo periodo perché alcuni anni dopo nel 1820 ci fu una frana che interessò la zona del Moracciolo come è stato in questi giorni nel 1826 questa frana si è ripetuta teniamo presente che dietro questa chiesa c'era un fiume il fiume Carbonara che era all'aperto e tante volte è sondato e quindi è entrato proprio nella chiesa inondato la chiesa e allora questa era una zona franossa poi nel 1856 ci fu un violento terremoto e crollò una parte della chiesa nel 1858 ci fu l'esondazione del Carbonara e quindi andò ancora in rovina per cui alla fine del 1857 1858 si decise di risistemare la chiesa con gli ingegneri del Tempo di capovolgerla la chiesa perché questa zona che andava sulla piazza Viceconte era molto franossa e quindi noi abbiamo la chiesa così come è stata ricostruita con i soldi del governo italiano forse è stata la prima chiesa ricostruita con i soldi del governo italiano 1861 bene qui già il Lentini è morto non ci siamo fermati su dei particolari della storia ma nella sua vita che cosa ha fatto il Lentini ecco due sono le attività principali del Lentini dico attività pastorale la prima attività pastorale è quella di fare scuola lui era stato chiamato a laurea da questi signori di laurea per educare i propri figli e allora lui ha trasformato la sua casetta in una scuola era assistito dalla sorella Antonia gli altri fratelli e sorelle si erano sposati e quindi lui viveva al Cafaro in questa piccola casa che era formata da una stanzetta da letto una stanza da letto dove c'era soltanto un piccolo letto con un piccolo tavolino da scrittori che funzionava qualche libro e poi aveva due o tre teschi perché vicino nella casa sua c'era il cimitero che ancora si può vedere andando verso l'assunto e lui aveva sempre due teschi accanto al letto una a destra e una a sinistra in modo che ogni qualvolta si girava aveva sempre di fronte la morte e si ricordava che noi siamo fatti per morire e quindi questo lo aiutava ecco a santificarsi e quindi a prepararsi a questo incontro con la morte in modo particolare attraverso i sacramenti quindi la la preghiera e in questa stanzetta lui riceveva questi bambini a cui faceva scuola e per 24 anni questa scuola è stata aperta anzi sono forse 34 anni che è stata aperta questa scuola dove lui ha educato questi bambini lui viveva e si manteneva con qualche offerta che davano le persone che stavano più bene economicamente perché quelle persone che non stavano bene lui non voleva niente da queste persone e tante volte questi ragazzi che venivano da lontano dalle campagne lui li ospettava anche a casa sua gratuitamente e questi ragazzi sono stati anche i protagonisti di tanti avvenimenti che lui che capitavano sotto i loro occhi quelli che noi chiamiamo miracoli anche se impropriamente però erano dei fatti un po' straordinari e qui lui ha inventato quasi un metodo di insegnamento che non si limitava a dare ai ragazzi delle nozioni ma lui voleva che quelle nozioni diventassero vita per cui lo stare lì nella casa era soltanto un momento poi lui prendeva questi ragazzi e con loro si spostava in alcuni posti di laurea io penso un po' a questo itinerario che lui faceva e ripeteva spesso la Madonna Assunta naturalmente non è che gli faceva arrivare la Madonna Assunta così ma pregando recitando il rosario e imparando anche insegnando a loro e quindi facendo imparare ai ragazzi dei canti tante volte era lui stesso a comporre questi piccoli canti con motivetti molto semplici che ricorda un metodo un po' che usava anche Sant'Alfonso Maria degli Cuori quello del far passare il messaggio evangelico attraverso canti semplici e popolari come tu scende dalle stelle e poi un altro esempio molto bello è che dalla Madonna Assunta lui raggiungeva anche la Cappella di Sant'Elia che era un luogo solitario lui ci andava tante volte per i fatti suoi a pregare proprio perché era un luogo solitario e lui amava ritirarsi in questi luoghi qui perché la spiritualità sua era monacale era basiliana amava questi luoghi tra le rocce vicino al fiume lontano dal paese dalla gente eccetera si alzava di notte a pregare e qui in questa chiesetta di Sant'Elia lui si preparava le prediche o meglio declamava la predica e diceva ai ragazzi voi mi dovete dire quello che non avete capito dalla predica per cui i ragazzi poi intervenivano dicevano questa parola non l'abbiamo capita e lui la cancellava la predica e metteva una parola più semplice così le sue prediche sono state fatte e corrette dai suoi ragazzi e quindi lui poi in questo periodo della quaresima ogni quaresima andava in uno dei paesi della dios dove il vescovo lo mandava perché era ecco un'attività la seconda attività quella della scuola era un'attività questa è la seconda attività quella del quaresimalista di andare a predicare la quaresima questi 40 giorni che allora si usava moltissimo bene allora continuando un po' con i ragazzi un altro tragitto che lui faceva con i ragazzi è quello di andare nella chiesa dei capuccini perché qui nella chiesa dei capuccini c'era la via crucis e soprattutto il venerdì lui andava ogni venerdì nella chiesa dei capuccini per fare la via crucis naturalmente i ragazzi poi si riportava qui in chiesa anche per la benedizione eucaristica la sera e quindi la vita con i ragazzi era una vita ricca di nozioni ma soprattutto di esperienza per cui stavano con lui e stando con lui hanno conosciuto questi ragazzi la santità di questo uomo che poi hanno saputo trasmettere nelle varie testimonianze che hanno dato quando è iniziato anche il processo canonico nel 1843 grazie al vescovo di allora Monsignor Laudisio che ha voluto l'inizio di questo processo canonico i ragazzi erano adulti erano vivi e quindi hanno raccontato un po' questi episodi che sono tutte raccolte nella posizio che si trova nella nella congregazione del culto a Roma ecco e lui ha predicato cioè ha fatto scuola fino agli ultimi quattro anni poi non ce l'ha fatto più quindi ha smesso nel 1824 di fare scuola così ha chiesto anche con tanta delicatezza e con tanta umiltà al vescovo se poteva smettere anche di predicare però si rifaceva la sua obbedienza perché non ce la faceva proprio fisicamente e naturalmente la sua fama di santità era conosciuta nel paese ecco perché i vescovi hanno anche tentato o cercato di dargli degli incarichi lui ha rifiutato per esempio di essere parroco di San Nicola perché gli è stata fatta la proposta e ha detto che non ce la sentiva di fare il parroco come ha rifiutato il canonicato dice no privilegi non ne vado trovando eccetera quindi questo fa capire anche l'umiltà di questo sacerdote però ha accettato l'incarico di essere il responsabile della liturgia della chiesa di San Nicola quasi una specie di sagrestano tra virgolette perché allora fare il sagrestano era un onore e quindi lui l'ha accettato questo incarico che gli era stato dato dal vescovo notizie particolari poi ne abbiamo tante che riguardano un po' episodi della carità del nostro Lentini perché mentre predicava o mentre faceva scuola nello stesso tempo lui aveva rapporti con la gente e tante volte conoscendo la sua bontà la sua carità molte persone bisognose lo raggiungevano e tante volte era lui che andava verso queste persone bisognose senza che loro lo sapessero a me è rimasto sempre impresso un episodio perché lui l'avrà certamente imparato questo dal vescovo San Nicola perché conosceva bene la vita dei santi e questo San Nicola essendo il protettore lo ha tratto anche per la sua carità e quindi come San Nicola una volta si racconta getto delle borse d'oro in una casa dove ci stavano tre fanciulli che dovevano maritarsi però il padre non riusciva a maritarle perché non aveva la dote e quindi aveva pensato di mandarle alla prostituzione per fare un po' di soldi lui senza farsene accorgere interviene gettando queste borse d'oro e facendo maritare tutte e tre le ragazze San Nicola questo episodio certamente l'ha tenuto sempre presente perché lui molte volte senza che gli altri lo sapessero portava rotolate dentro una pagina di giornale dei soldi e le invilava dal buco che prima stava vicino a ogni porta di casa da dove andravano i gatti e le invilava da quel buco per far arrivare i soldi in casa e lui poi scappava in modo tale che nessuno sapeva chi avesse portato i soldi questo era un tipo di carità che faceva un'altra volta per esempio un mendicante sulla via provinciale delle Calabrie passavano per il ponte Carrosso da quella parte giù e il mendicante per andare verso il regno di Napoli incontrò uno che era senza scarpe e lui si tolse le scarpe e le diede a questo qui e ritornò a casa scarso un'altra volta si tolse proprio i pantaloni lo potete fare perché aveva la tonaca la talare che lo copriva e ricordo che questi episodi si moltiplicavano tant'è vero che quando morì e fu messo il catafalco qui in ghiesa e la gente veniva a visitarlo molti venivano con le forbici e tagliavano un po' di talare e la sorella piangendo diceva Rumi Domenico ti sei fatto spogliare da vivo e ti stai facendo spogliare pure da morto ecco questo è l'episodio che dice quanta carità e come lui faceva la carità e viveva di carità poi avremo modo di parlare un po' anche delle prediche di alcuni episodi accaduti nelle prediche un altro episodio da mettere in evidenza è nel 1821 quando ci furono i moti rivoluzionari che partirono dalla Spagna da Cadice e poi arrivarono nel regno di Napoli per cui questi moti rivoluzionari portarono in poco tempo anche a una situazione disastrosa nei nostri paesi per cui incominciarono le rivolte le rivolte andarono a finire sempre nel sangue furono sempre sanguinose eccetera e si perse la fede perché le idee illuministiche ormai serpeggiavano ovunque nei nostri paesi quindi l'ateismo era divolgato un po' a livello proprio teorico e oltre a essere pratico la gente ormai non faceva più punto di riferimento non aveva più come punto di riferimento la Chiesa ma le idee dell'illuminismo libertà fraternità egalità il vescovo di allora Monsignor Barbaroli che è stato vescovo per tre o quattro anni dal 19 1819 1823 nel 1821 lo volle qui a Lauria a predicare sulla fede e noi abbiamo delle belle prediche fatte dal Domenico Lendini sulla fede ecco questo è un altro episodio da tenerlo presente per mettere anche in evidenza come lui era stimato per la sua santità anche dai vescovi che poi erano anche i suoi penitenti perché tanti vescovi anche della zona circostante venivano a conversarsi da lui e lui era il consigliere anche di sacerdoti e di vescovi per cui diciamo questa fama di santità come capita sempre da una parte portò alcuni ad avvicinarsi a lui dall'altra parte incominciò a iniziare una gelosia verso questo sacerdote da parte dei confratelli e quindi non da tutti fu ben visto bene noi forse dobbiamo adesso avvicinarci un po' agli ultimi giorni agli ultimi anni della sua vita dicevo che lui frequentava questa chiesa da quando è diventato prete e soprattutto la frequentava e per celebrare la messa e per confessare e per partecipare all'adorazione eucaristica per esempio quando lui dal cafaro scendeva e veniva qui allora c'è la sera la benedizione eucaristica e sentiva suonare la campana vuol dire che aveva fatto ritardo lui si incinocchiava dove si trovava per prendere parte della benedizione anche se era all'olmo eccetera partecipava invece quando partecipava alle 40 ore noi sappiamo che lui si metteva nel coro e stava 24 ore senza piegarsi sempre diritto guardando è santissimo e quando celebrava la messa il suo volto diventava quasi invocato rosso cioè la gente percepiva immediatamente che era pieno d'amore per Gesù Cristo c'era un momento di misticismo nella celebrazione della messa ed era tanto evidente che la gente lo incominciò a chiamare angelo dell'altare quindi servo di Dio e angelo dell'altare nei due appellativi con cui veniva chiamato Don Domenico Lendini morì il 25 febbraio del 1828 dopo una malattia breve ma dolorosissima di nove giorni incominciò dal giorno della novena dal 16 e questa malattia durò pochi giorni perché nella notte tra il 24 e il 25 di febbraio lui ritornò nella casa del padre un episodio bello che ricordo di aver letto è che un giorno mentre usciva da casa sua per venire nella chiesa di San Nicola si fermò vicino alla bottega di un artigiano che costruiva le funi e dice ma per chi la fai questa fune così grossa e l'artigiano dice no questa me l'hanno ordinata per la campana di San Nicola la campana grossa che c'è a San Nicola dice questa fune sarà adoperata la prima volta per annunciare una grande festa e fu adoperata il 25 di febbraio per annunciare la morte del Lentini ecco il Lentini prima di morire venendo qui nella chiesa di San Nicola prima di cadere ammalato diceva ai suoi amici ai ragazzi ai giovani dice ma tu quando muori dove ti devono mettere e lui ha indicato sempre un pilastro dice voi mi dovete mettere in quel pilastro per sua volontà i muratori incominciarono ad aprire il pilastro con grande sorpresa lo trovarono vuoto lui aveva visto già che il pilastro era vuoto per cui quel luogo non è stato scelto da nessuno è stato scelto da lui dove essere sepolto poi lo vedremo magari tra poco però ecco in questi nove giorni della novena oltre alla sofferenza che ha avuto per questo forte mal di testa ha subito alte sofferenze perché i medici da allora ordinarono dei bagni di acqua fritta per cui fu presa l'acqua gelita del cafaro siamo a febbraio bagni anche con la neve per cui erano bagni insopportabili proprio lui non voleva farli anche perché per fare questi bagni si doveva spogliare e non voleva assolutamente spogliarsi soltanto quando gli dicevano tu lo devi fare per la volontà di Dio perché Dio vuole così allora dico se è per volontà di Dio ubbidisco e li faceva e furono un tormento l'ultimo tormento prima di morire è che lui voleva la comunione per cui desiderava il viatico e aveva chiesto più volte di portare la comunione e una volta vide il sacerdote che stava arrivando perché allora il sacerdote era accompagnato quando portava la comunione dai chiarichetti con le candele accese e da un altro chiarichetto che suonava il campanello per avvisare che passava Gesù lui sentì il campanello suonare immediatamente pensò che stavano andando a casa sua e lui per ricevere Gesù in modo degno si alzò dal letto e si ginocchiò il sacerdote passò oltre e fu una grande delusione quella di morire senza ricevere Gesù Cristo e prima poi di morire lui volle che si accendesse la candela che di solito si porta a casa nel giorno della candelora e morì tenendo accesa un crocifisso la candela accesa su una mano e il crocifisso all'altra mano e si addormentò in questo modo baciando teneramente il crocifisso 25 febbraio 1828 era luna di notte ecco nella chiesa di San Nicola lui venne portato per per i funerali dei funerali parleremo la prossima volta perché sono un po' lunghi e forse non tutti conoscono la storia di questi funerali però ecco quando fu pronto il funerale dopo aver avuto l'autorizzazione del vescovo di Policastro Monsignor l'audizio il Lintini fu sepolto in questo pilastro teniamo presente che qui nella chiesa di San Nicola questa navata laterale non c'era per cui qui c'era l'altare di San D'Antonio e tra l'altare di San D'Antonio e l'antico altare di Santa Elisabetta lui fu sepolto qui in questa zona del pilastro che era vuota da vicino chi viene qui può notare anche il segno un po' dell'apertura del pilastro lui aveva predetto di essere sepolto qui e qui rimase sepolto fino al 1891 perché nel 1891 riprese la causa di beatificazione e fu affidata al notaio Giambattista Pisani che poi ha scritto la più bella biografia sulla Lentini e nel 1891 ci fu la ricognizione del suo corpo e dopo non fu più riposto nel pilastro ma i resti del suo corpo furono posti per terra li copriva una lapide che adesso si trova nella sua casetta in cui è scritto che fino al 1891 sono state il corpo era deposto nel pilastro e poi è stato messo per terra poi come sappiamo dal 1997 dopo la beatificazione essendo diventato beato non poteva stare più sotto terra ma è stato elevato agli onori degli altari per cui è stato messo sopra la terra ecco perché sotto l'altare che adesso è l'altare del beato in quell'urna d'argento si trova i resti del nostro beato lentini io mi fermerei qui perché forse sono stato già abbastanza lungo però quando si parla dei santi c'è sempre spazio e tempo non si finisce mai di raccontare i prodigi che hanno compiute perché il santo perpetua la presenza di Dio sulla terra di Cristo sulla terra San Giovanni evangelista quando termina di raccontare la storia di Gesù dice ci sarebbero tanti altri episodi da dire su quello che Gesù ha fatto ma non basterebbero tutti i libri del mondo per raccontarle e così anche per il nostro lentine grazie